Musica Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Il ritorno dell'alta pressione accompagnerà la nostra penisola in una nuova fase di bel tempo. Difatti, fine anno e l'inizio del prossimo saranno caratterizzati da stabilità diffusa e cieli soleggiati. Solo sul sud Italia insisteranno deboli correnti fredde balcaniche, che forveriranno temperature molto basse, in particolar modo durante le ore notturne. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per sabato 31 dicembre. Molto freddo al mattino, sulle alture e lungo le valli di Puglia e Basilicata. La giornata proseguirà con cieli soleggiati su quasi tutti i settori. Solo qualche nube in più potrà affacciarsi nel primo pomeriggio lungo le coste adriatiche, ma senza alcun rischio di fenomeni. Le temperature, che potranno risultare negative al primo mattino nelle zone interne. Il leggero aumento le massime durante il giorno. Soffieranno ancora venti dai quadranti nord-occidentali di debole intensità. Per quanto riguarda i mari, ancora mosso l'Adriatico, più calmo invece lo Ionio. Ed ora, ecco la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Antonio Nicoli per aver catturato questa forte mareggiata abbattutosi nei giorni scorsi sulle coste salentine, nei pressi di Rocavecchia. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappola, oppure le mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti.